Elette le cariche per la Real Mestranza anche nella categoria dei falegnami e banisti e in quella dei pittori-decoratori. Per la prima portabandiera è stato eletto Michele Castelli, figlio d'arte, il padre è stato capitano nel 2016, alla bardiere Domenico Moulet, da diversi anni presente nelle tradizionali processioni della Settimana Santa. Per la seconda portabandiera Calogero Inglese, al debutto nella Real Mestranza, alla bardiere il figlio Luigi Inglese, portabaldacchino Liborio Fiore. Nei giorni scorsi altre categorie hanno già provveduto alle scelte per la prossima edizione di una manifestazione che ogni anno coinvolge attivamente un massiccio numero di artigiani nisseni, animati da una passione che si trasmette da generazione in generazione, che può vantare una storia importante nell'ambito dei riti della Settimana Santa in tutta la Sicilia.